Bomba Day, oggi il summit in prefettura tra il rappresentante del governo Pietro Signoriello ed il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Quella che viene messa in piedi è una giornata campale, oltre 3.000 cittadini verranno evacuati e di questi 500 sono fragili o disabili. 700 persone lavoreranno per garantire la sicurezza e l'assistenza dei residenti che dovranno lasciare la propria abitazione per qualche ora. La fiera, come abbiamo anticipato noi di Rete Veneta, è candidata a ospitarli e a dargli da mangiare, garantendo le distanze e il rispetto delle regole anti-Covid. La data del giorno X verrà individuata nel prossimo incontro in provincia, fissato il 7 aprile. Svolgeremo un incontro presso la sala del Consiglio provinciale, all'interno del quale io credo che dovremmo poter trovare una condivisione per la data di rimozione dell'ordigno. Potrebbe essere dalla metà di aprile ai primi di maggio, questo è il range che abbiamo individuato con il signor Prefetto. I costi stimati sono ingenti e per questo il Comune di Vicenza chiederà lo stato di emergenza e invocherà l'intervento economico del Governo. La stima indicativa è intorno ai 400.000 euro, questa è la stima che abbiamo fatto di massima. Chiaramente l'obiettivo sarà ridurre il minimo il costo e che possa pesare il meno possibile sulle casse comunali. Lì fuori c'è una bomba quindi dobbiamo fare il più presto possibile. È un'area delicata della città perché c'è una densità abitativa significativa, perché ci sono dei sottoservizi importanti e quindi bisogna organizzare le cose in modo appropriato perché poi quel giorno tutto deve funzionare perfettamente come un orologio svizzero.